Sono tre i casi di coronavirus in Abruzzo finora accertati dall'Istituto Superiore di Sanità. Il primo è il bancario di Brugheri, ovvero il cosiddetto paziente 1, che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza a Roseto. Il secondo caso confermato è quello della dottoressa Lombarda, tornata all'Aquila per sostenere l'esame di abilitazione professionale e attualmente ricoverata al San Salvatore. Il terzo, accertato ieri, è uno speleologo del soccorso alpino residente a San Buceto, frazione di San Giovanni Tiatino, che si è scoperto positivo dopo essere tornato da un viaggio di lavoro in Lombardia. L'uomo ora è ricoverato a Pescara. A rendere nota la notizia è il sindaco del comune in provincia di Chieti, Luciano Marinucci, che in un post su Facebook ha anche specificato che la moglie del paziente sarebbe risultata negativa ai tamponi effettuati finora. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, il cui comune è in prima linea per combattere la diffusione del virus in Abruzzo, abbassa i toni e conferma che le scuole rimarranno aperte. Per ora, e spero mai, nessuna scuola chiusa. Ovviamente negli uffici pubblici inseriremo tutte le precauzioni possibili dettate dalla normativa, dal decreto del Presidente del Consiglio. Ma io ovviamente invito i cittadini di Pescara a vivere normalmente la loro vita, ad essere tranquilli. Il bilancio dei contagiati però potrebbe aumentare. La famiglia del bancario di Brugherio, infatti, è ricoverata in isolamento al Mazzini di Teramo. Si tratta di una donna e dei bambini di 4 e 8 anni. Il figlio maggiore e la madre sono risultati positivi al primo test effettuato nel laboratorio pescarese, ma per la conferma bisognerà aspettare i risultati dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto dovrà dirimere anche la condizione della figlioletta, per la quale la doppia metodica utilizzata per prassi ha dato esito contrastante. Tutti e quattro però, informa l'ASL di Teramo, sono in buone condizioni di salute, non hanno febbre e respirano autonomamente. Ieri intanto è giunta la notizia che la studentessa aquilana, ricoverata al San Salvatore con quelli che sembravano i sintomi del virus, e il risultato è negativo ai test. In ogni caso, benché il numero dei contagiati aumenti, le situazioni sembra essere sotto controllo e tutte le misure atte a contrastare il virus sarebbero state adottate da istituzioni e presidi sanitari. Se io faccio il tampone di un contatto stretto di un paziente, che ha avuto il contatto il giorno prima o due giorni prima, ma quel tampone probabilmente mi verrà negativo e magari mi diventa positivo dopo 7-8 giorni. Quindi che io faccia o non faccia un tampone, comunque devo mettere la persona in quarantena. Oltretutto il rischio che mi ritrovo una serie di tamponi non confermati positivi e vado ad aumentare il numero a dismisura come di fatto è successo.